Continuo la protesta dei lavoratori Behert oggi davanti al Consiglio regionale per chiedere che cosa, qual è la situazione? Intanto per tenere alta l'attenzione sulla vertenza, due per chiedere al Governo di accelerare l'autorizzazione al pagamento della cassa integrazione che ancora non è arrivata, tre il 28 ci sarà un incontro, vogliamo essere chiari sin dall'inizio del Governo che a quell'incontro qualora ci sia un piano di reindustrializzazione serio, concreto, questo piano di reindustrializzazione deve prevedere alcune cose molto chiare, che i lavoratori passano nel nuovo soggetto, devono avere garantito le stesse condizioni economie, normative e dei diritti che avevano quando Behert ha deciso di chiudere e che nessuno può pensare che Behert se ne va e questi lavoratori pur da accettare il lavoro accettano condizioni salariali e di diritti diversi rispetto a quelle precedenti. Nel processo di industrializzazione noi ci si è creduto fino in fondo, quindi in ragione di ciò chiediamo semplicemente questo al Governo e a tutta la politica di evitare durante la tornata elettorale delle europee e anche delle tornate elettorali delle amministrative, di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione perché se la politica può aiutare, può aiutare dandoci una mano seria e concreta per trovare una soluzione per tutte e tutte le lavoratori e lavoratrici di Behert e dell'Indotto. In questo momento la situazione dei lavoratori qual è? In che Stato si trovano? Attualmente i lavoratori sono in cassa integrazione ma non percepiscono l'indenità, c'è un anticipo che ha dato l'azienda ma che sono soldi dei lavoratori che dovranno comunque restituire in fondo alla fine il rapporto di lavoro, quindi si attende semplicemente che ci sia un'autorizzazione da parte del decreto di cassa integrazione da parte del Governo e però ancora non è arrivato.